Sicuramente sapevamo che Gara 1 poteva darci dei vantaggi, onestamente pensavo che soprattutto a livello di energia oggi qualche minimo vantaggio potevamo averlo ed in effetti è stato così perché credo a livello di presenza sui ribatti, sulle palle vaganti, non sempre, però nell'arco dei 40 minuti secondo me ne avevamo di più e per questo dobbiamo essere felici ma risettare immediatamente perché Gara 2 sarà una partita completamente diversa, sarà una partita che offrirà dei contenuti diversi dove troveremo una squadra diversa perché arriveremo anche in Gara 2 entrambe le squadre con solo due giorni di riposo e dobbiamo cercare di farci trovare pronti sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico per limitare le cose che giustamente Verona preparerà e quindi vogliamo continuare a far bene e speriamo che anche martedì di avere un supporto importante del nostro pubblico.